assai dimostrammo quanto i lumi abbiano forza a variare i colori che insegnammo come stando uno medesimo colore secondo il lume e l'ombra che riceve altera sua veduta e dicemmo che il bianco e il nero al pittore esprimea l'ombra e il chiarore tutti gli altri colori essere al pittore come materia al quale aggiugnesse più o meno ombra o lume e dunque lassando le altre cose qui solo resta a dire in che modo abbia il pittore usare il suo bianco e nero dicono che gli antichi pittori con l'ignoto e timante usavano solo quattro colori e a glaufon si maravigliano si dilettasse dipignere in uno solo semplice colore quasi come fosse poco in quanto estimavano un grandissimo numero di colori se quegli ottimi dipintori avessero eletti quelli pochi e ad uno copioso artefice credeano convenirsi tutta la moltitudine dei colori certo affermo che alla grazia e lode della pittura la copia e varietà dei colori molto giova ma voglio così estimino i dotti che tutta la somma industria e arte sta in saper usare il bianco e il nero e in ben saper usare questi due convenzi porre tutto lo studio e diligenza però che il lume e l'ombra fanno parere le cose rilevate così il bianco e il nero fa le cose dipinte parere rilevate ed ha quella lode quale si dava a niti a pittori ateniese dicono che Zeus è antiquissimo e famosissimo dipintore fu quasi principe degli altri in conoscere la forza dei lumi e dell'ombre agli altri poco fu data simile loda ma io quasi mai estimerò mezzano dipintore quello quale non bene intenda che forza ogni lume e ombra tenga in ogni superficie io coi dotti e non dotti lo derò quelli visi quali come scolpiti parranno uscire fuori dalla tavola e biasimerò quelli visi nei quali vegga arte ni una altra che solo forse nel disegno vorrei io un buono disegno ad una buona composizione ben essere colorato così adunque in prima studino circa i lumi e circa l'ombra e pongano mente come quella superficie più che l'altra sia chiara in quale feriscano i razzi del lume e come dove manca la forza del lume quel medesimo colore diventa fusco e notino che sempre contro il lume dall'altra parte corrisponda l'ombra tale che in corpo ognuno sarà parte alcuna illuminata a cui non sia altra parte diversa o scura ma quanto ad imitare il chiarore col bianco e l'ombra col nero ammonisco molto abbino studio a conoscere distinte superfici quanto ciascuna sia coperta di lume o d'ombra questo assai da te comprenderai dalla natura e quando bene le conoscerai e vi con molta avarizia dove bisogni comincerai a porvi il bianco e subito contrario dove bisogni il nero però che con questo bilanciare il bianco col nero molto si scorge quanto le cose si rilevino e così pure con avarizia a poco a poco seguirai accrescendo più bianco e più nero quanto basti e saratti a ciò conoscere buono giudice lo specchio ne so come le cose ben dipinte molto abbino nello specchio grazia cosa maravigliosa come ogni vizio della pittura si manifesti di forme nello specchio adunque le cose prese dalla natura si emendino con lo specchio qui vero raccontiamo cose quali imparammo dalla natura posimente che alla superficie piana in ogni suo luogo sta il colore uniforme nelle superficie cave e sperice piglia il colore variazione però che è qui chiaro il vio scuro in altro luogo mezzo colore questa alterazione dei colori inganna gli sciocchi pittori quali se come dicemmo bene avessero disegnato gli orli delle superficie sentirebbero facile il porvi i lumi così farebbero prima quasi come leggerissima rugiada per infino all'orlo coprirebbero la superficie di qual bisognasse bianco o nero di poi sopra questa un'altra e poi un'altra e così a poco a poco farebbero che dove fosse più lume ivi più bianco da torno mancando il lume il bianco si perderebbe quasi in fumo e simile contrario farebbero del nero ma ramenti sì mai fare bianca alcuna superficie tanto che ancora non possa farla via più bianca sebbene vestissi di panni candidissimi convienti fermare molto più giù che l'ultima bianchezza trova il pittore cosa niuna altro che il bianco col quale dimostri l'ultimo lustro ad una forbitissima spada e solo il nero a dimostrare l'ultime tenebre della notte e vedessi forza in ben comporre bianco presso nero che vasi per questo paiono d'argento d'oro e di vetro e paiono dipinti risplendere per questo molto si piace mi ciascuno pittore il quale senza molto modo usi bianco o nero piacerebbe mi appresso dei pittori il bianco si vendesse più che le preziosissime gemme caro sarebbe certo utile il bianco e nero si facesse di quelle grossissime perle quale Cleopatra distruggeva in aceto che ne sarebbero quanto debbono avari e massai e sarebbero loro opere più alvero dolci e vezzose ne si può dire quanto di questi si convenga masserizia al dipintore e seppure in distribuirli peccano meno si riprende chi ad operi molto nero che chi non bene distende il bianco di dindi fa natura che divene in odio le cose orride e oscure e quanto più facendo impari tanto più la mano si fa delicata a vezzosa grazia certo da natura amiamo le cose aperte e chiare adunque più si chiude la via quale più stia facile a peccare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti